Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. In sequenza i ragazzi e chiuderanno gli esordienti per quanto riguarda i giovani. Sì, sì, sì. Per cortesia è approvato, è pregato di presentarsi l'arrivo. Sì, sì, sì. Stiamo assistendo al primo passaggio per quanto riguarda il signor Amatori, un po' sul nuovo per quanto riguarda il signor Amatori. Vai, Marcella! Vai, Marcella! Vai, Bionda! Vai, Marcella! 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 Guarda quei corridori! una prima volta dei due numerosi! Una seconda! Una seconda! Una scelta! Un applauso! Lui aiuto lui! Un applauso! Un applauso! Grazie. 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 Faccia pure il dialogo. Grazie. 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 25. 6. Come fai? 20. 7. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 45. 40. 40. 40. 41. 45, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 55, 44, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 70, 61, 72, terza donna, 75, 74, 76, 73, 75, 78, 65, 61, 62, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 67, 67, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 69, 68, 69, 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 70, 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 70 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.